Grazie a tutti. Comodo? No. Va bene, ho capito. Tiriamo un po' indietro il sedile. Anzi, è meglio levarli del tutto. Ci mettiamo di dietro. Assoluto Bianco Scoppiati e Forza Padua. Adesso dove vai? Vai a casa? A casa. Ah, ok. Va bene. Allora ciao Emiliano. Ciao. Ma com'è? Sei comodo. A quasi quasi toggo il sedile. Ah, togli il sedile? Grande! Io stavo scherzando sul fatto di levare il sedile. Invece va bene. È perfetto. Stare comodi è importante. Metti prima. Così. Un po' di più. Ok. Puoi anche dare un po' più svelto.